La prima parola che mi viene da dire è finalmente. Così la direttrice del Nido dell'ospedale, ex consigliere di Padova 2020, oggi coalizione civica Beatrice Dallabarba, in merito alla notizia data ufficialmente dal direttore generale dell'azienda ospedaliera Luciano Flor sul via il progetto per la nuova pediatria. La pediatria soffre da anni, la neonatologia poi non ne parliamo. Mi auguro che se davvero la chirurgia pediatrica verrà spostata all'interno del nuovo edificio della pneumologia, allora la divisione ostetrica avrà spazio per il materno infantile. Chiudiamo le porte e siamo lì. Abbiamo la possibilità in quell'edificio di avere mamme, bambini, sale parto, le agenzie delle mamme e dei bambini e anche finalmente la patologia neonatale unita con l'assistenza neonatale. Tutto questo non rischia di affossare quello che è il discorso legato al nuovo ospedale? Cosa ne facciamo di questa bella palazzina nuova se si parla di nuovo ospedale? Ecco, allora il tema nuovo ospedale è un tema che sta molto a cuore alla città. Se si facesse un nuovo ospedale che sta diventando una barzelletta, devo dire, perché sono anni che si dice oggi qui, domani lì. Altro che barzelletta, Beatrice Dallabarba esige da medico, come tutti i padomani, che si pensi davvero alla salute della gente. Nelle precedenti elezioni l'unico punto in comune che c'era tra Padova 2020 e il programma elettorale di Massimo Mitonci era proprio questo, no al nuovo ospedale d'Amblè, facciamo il nuovo sul vecchio. Ora Mitonci mi pare che abbia cambiato idea e questo non fa venire in mente alla gente che ci sia qualche cosa sotto che non è solo l'ospedale, la salute e il benessere dei cittadini. Grazie. Grazie. Grazie.